Tutto questo viene fino a che a distraere i polli io lo spezzo e andate a sederti. Allora ma se avete finito vada via caffè, allora la c'è la banca, ma questo bene è buono, davvero, faccio mettere su tutto il gusto, mi devo pagare la tango viso, non devo pagare la tango viso, non devo pagare la tango viso. Poi siete in attesa, questo Scarlson Brandi voleva mangiare per i piccioni e allora adesso ve lo porta Cristiano, qui è stato in attesa, ecco che lei ve lo porta. Grazie, dobbiamo dire che è. Eh vabbè dopo va per lui, tu invece prendi questa mancina e cominci qua a chiamare, se non lo fare se non arriveranno. No, ci provo sempre a sedermi io. No, ci provo sempre a sedermi io. Via caffè. 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 Voi fate comunque come se, vai, azioni. Venite verso di qua, la direzione è questa, più frontale. Voi vedi. Proviamo a farla così Pronti, silenzio, grazie 39, 7 prima Silenzio Azione Torniamo in partenza